Bella a tutti ragazzi, sono Algezius e oggi siamo su... oddio, vedo una cosa strana... ok, non c'è, è solo... Slenderman Slenderman, dietro un fiore ho visto solo gli scarpini E oggi siamo su Super Mario Galaxy, map versione Minecraft, quello che è insomma, e siamo nel quarto episodio se non sbaglio Sì Quarto, sì, quarto Ok, se vi siete persi il secondo e il terzo vi lascio in descrizione i link dei due episodi Allora, l'ultima volta abbiamo fatto il parkour E qua ce n'è un altro, guarda, va in parkour No Sì Fanculo a cab Eh vabbè ma penso ci posso... C'è scritto che possiamo rompere la cob Scusa, la... Sì, ma lui non vai da nessuna parte, ho fatto io tutta la stradina off camera A meno Dov'è che è la stradina? Io ho fatto lo stesso Dov'è? Dov'hai fatto? Sali, sali, sali Hai fatto questo Hai rompisa tutta, così ce la portiamo a casa Qui dietro Oh, c'è una chest Guarda Con bottiglie dell'incantagione, incantagione, incantagione Prendine un po' Sì, sì, ho preso uno stack e mezzo L'altro l'altro Ma cosa c'è il phone? Cioè, dovremmo... In pratica le lanci in terra e ti dà esperienza Ah E qui come è fatto Oh, c'è Oh mio dio Vi prego, troppo bello, continuiamo a farlo Vieni su, ti prego Arrivo, ok Guarda Niente Basta Quando salgo Wow È troppo bella questa mappa Aspetta, qua non cliccare perché ci rimanda dietro all'osservatorio Ok, aspetta un attimo che finisco di fare una cosa importantissima Outro, aggiungere il livello 30 in 3 secondi e mezzo My majesty The queen bee Ah, sì, me lo ricordo Sì, e dopo là in alto ci sono due blocchi d'oro, non per dire ma... Io magari vorrei anche... Oh mio dio Ma si possono prendere o... Shhh Come ci arriviamo là in alto? Con i fiori Mi ricordo che c'è un modo per arrivare Mi sembrava che fossero i fiori in Super Mario Eh, vabbè, ma i fiori sono in parte Ah, io? Vai, giù Cade uno e cade anche l'altro Ma c'era un... C'era un command block lì sopra, comunque, sotto la cesta Attivava il messaggio, quello che diceva la regina del Neopi Ah, sì, good job making the first world Ok, sì Wow, wow, dove c'era il vine parkour, comunque, dopo c'è una cesta, l'ho visto da qua Sì, ok, ce l'abbiamo fatta, siamo vicino Wow, blocchi d'oro Uno me lo ho preso io Eh, uno, l'altro lo prendo io Sì, sì Ti lascio questo onore Ti c'è rotto il piccone Sì, ma no, perché era quello tipo che abbiamo trovato nell'episodio tanto tempo fa Ah, sì, quello che avevo in uso Ah, vai in parkour Oh Eh, neanche troppo difficile No, pensiamo peggio Oh Attenzione, super asquit Super asquit, attenzione Una chest Io sono shifter Un arco e una freccia A cosa servono? Tu ti vieni di non usare la freccia Ma l'arco qua, aspetta Arco a impatto 2 a fin... infinità Ecco Ah, infin... aspetta, possiamo rompere la glowstone c'è scritto Vabbè, è vero C'è un cazzo di niente, cioè Ma continuava poi? No, no No, c'è finito qua Adesso io opterei per suicidarsi per tornare indietro Ehm... Ok Wuhu Addio Penso che con un arco con infinità potremmo cavarcela Con le spade di diamante ce la caveremo Guarda qua Lo si nota perché c'è la luce Ah, effettivamente È stato furbo il creatore della mappa Beh, effettivamente di giorno era un po' difficile capirlo Spawners di zombie Rotto Eh, aspettami però Sì, sì, è su qua Che c'è... Ci sono tante belle cose Oh B... Ah, è da ape E ah, ok Ho capito, è tipo la... È presente che c'è Mario ape? Ah, sì No, in realtà però... Eh, io sì, ho presente io Vai, tu cosa prendi? Prendi... No, aspetta, aspetta Ho sbagliato a prendere Ecco, ti ridò i pantaloni Ti ridò i pantaloni perché stavo finendo appunto Corazze e scarpe Tu scegliti qualcosa, dopo il resto lo prendo io Sì, va buon così, dai Ah, il fiore sa me lo prendo in via Su via Ah, il fiore prendo in via Ma cos'è? Ma cos'è? Continua tanto sta cosa? Sì, sì, sui c'è un blocco d'oro Spoiler Cosa, spoiler-y C'è un co... Oddio, i cocomeri Cioè, tu ti preoccupi dei cocomeri quando qua ci sono quattro torte dentro Ah Forse effettivamente Oh, blocco d'oro l'ho preso anche io What? Le torte... ma sì Io direi, aspetta, vieni che andiamo a incantarci la spada Perché ti ricordo che qua dove c'è... Ah, è vero Ho 30 livelli io Eh, io me li sto facendo adesso Ah, tu si... Ti sei perso la scena in cui io mi incantavo No, tranquillo, ti vedevo dall'alto io Ah, te ne ho fregato un po' mentre passavo Ok Ho 30 livelli Spada Quasi quasi mi faccio anche un arco e li ho incanto Eh, non si sa bene che cos'è Ah, la tema 2 Contracolpo 1, spetto di fuoco 1 Ah, aspetta però Perché non possiamo incantare a livello 30 Eh, non so Non ci sono abbastanza... No, ci sono abbastanza librerie però non capisco Eh, ma non sono messe nell'ordine giusto Eh, chi se ne frega Sai cosa ti dico? Oh, ho trovato sulla spada looting 1 e pinocchio per 1 Cagate in pratica Quanto danno ti faccio a fare così? No E io quanto danno ti faccio a fare così? Eh, 3 cuori e mezzo Oh, 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 basta Oh, oh 3 cuori e mezzo No, mi tocca riferire la strada Metti il blocco d'oro al mio È vero che io avevo il blocco d'oro Eh, ma tu è quello che prende fuoco Io ho fatto un enchant di merda Eh, eh, perché io sono io Io ho trovato fortuna In coso, knockback Teleport With enderpearl Squint, vieni a vedere dove sono arrivato con l'enderpearl Culo, che culo C'è un'unica parola per questo Qual è il primo che facciamo? Fai te C'è la tua amata piramide Questo qua di ghiaccio Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio Usare il tuo potere per Oddio Parkour di merda Non si può risalire Oddio Aspetto di fuoco due fiamma Scusa, perché l'aspetto di fuoco e la fiamma sono diversi? Perché Flame va sull'arco Fire Aspect va sull'arco Ah Metti giù una slab che non posso risalire Dove? Qua Ah E non ho una slab Perché c'era il ferro Non ho una slab Ecco Ma sì Col ferro Prendi notte un coso Che io ho l'arco con infinità E ho la spada con aspetto di fuoco Ok Vai andiamo a picchiare la gente con un fiore Oh, oh, oh Mi destreggio, attenzione Oh Oh, yeah Faccio una citazione Oh Bene, basta citazioni Io devo mangiare Sono caduto Ma perché? Ma sai che ti dico io uso l'altra via Appunto Io invece no Oh, attenzione E ce la fa fare il parkour Certo che però dopo arrivato qua io come faccio? Oh, ti ammazzo col fiore di fuoco, eh? Col fiore di fuoco, mamma Allora perché mi hai rispedito i colpi? Non lo so Non lo so Come guardare se hai qualcosa nell'inventario che rispedisce i colpi? Potrebbe essere utile Sei arrabbiato? Ma io ti distruggo Vai, salta Eh, ma devo saltare dove? Devi andare sopra Cosa ha fatto? Ecco, cosa ha fatto? Esce un pistone Ah, che mi fa cadere? Sì E che palle Cos'è che è? Snow pants Protezione 3 Prendilo Vai No, no, è ancora un parkour invece Oh, vabbè, però almeno ci hanno messo la via per quelli che non sono bravi Ah, perché a me sono via per quelli che non sono bravi Ah, perché tu cammini sulla neve Sì, snowman No, ma ce la stavo facendo però io Eh, perché ho gli snow leggings per quello E quindi cosa fanno? Eh, mi fanno camminare sulla neve No, hanno protezione 3 No, no, fila, ti fanno camminare sulla neve Mi vedi, guarda Cammino sulla neve Anch'io cammino sulla neve Eh Ma questa mappa cos'è? Una mappa parkour Sì, davvero Cioè, non abbiamo scelto una mappa CTM Eh, grazie No, grazie mille Prego Per aver tolto l'acqua 5 euro per il servizio Cosa? 5 euro per il servizio Te li metto su per il Naso, dice qua Mi raccomando Niente contanti Solo carta di felice Adesso, dov'è che dobbiamo andare qua? Sopra lì Dove? Qua, qua così Mi ricordo che qua Per affrontare il boss Tipo bisognava fare il coso a salto Il salto a muro di Mario Eh, tanti spawner Scalati, 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 scalati Scalati, scalati, scalati Scalati, scalati, scalati Va, 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 va Tu pensa che dovremmo rifarci la tutta Se moriamo Rifarci tutta la spada Va beh che non è tanta Per me perché spuma Blocco d'oro Vai, prenditelo Eh, oddio Non, non Non premere il pulsante Va bene? Non premerlo C'è TNT E blocco d'oro Aspetta che No, 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 no A meno che La TNT Tipo se uno la rompe Fa Fa uscire i blocchi d'oro Non so No, 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 no Non corriamo il rischio Abbiamo il piccone Andiamo sopra Eh, non riesco ad andare sopra Ah, c'è l'acqua giusto Vai, prendi tu Sento scheletri Io o sbaglio? Io o no? Ho sentito Ho sentito uno scheletro io? È buio Non ci si vede una ceppa Per questo episodio Ci faremo qua Quindi se vi è piaciuto Lascia il tuo commento Mettetevi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Che sarà ancora sul mio canale Visto che l'ultimo Ne ha fatti due squitte Visto che Causa Inconvenienti Quindi Bella ragazzi Oh, è lo scheletro È l'imparte Comunque È l'imparte Mi ho lanciato Palle di neve Non è morto Saluta squitte Ho sbagliato Ciao Ciao a tutti Oh, no, 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 no Sceletro, sceletro, sceletro Sceletro No, 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 no Morto, ok Come finire una registrazione Vale, occhio Chiudi, chiudi Qua Chiudi dappertutto Che se entra un creeper C'è un creeper C'è un creeper Lì Vabbè, non mi vede Non mi vede Non fanno esplodere Chiudi anche dietro Se non hai chiuso Non hai chiuso Non ho sentito camminare Io Intanto che tu scavi Metto Sistemo le cose Non ci sarà un po' Nella cosa Perché non vedo Non vedo Non vedo Non vedete Non vedo